Io ho scritto per difetto, ho battuto i tasti, prima delle remito, poi delle olivette portatili, poi delle olivette elettriche, poi delle prime macchine elettroniche, poi del computer, adesso con grandi problemi. Io per difetto sono sui 155 milioni di volte. Ora dicono che se voi mettete un milione di scimmie in una radura e date a ognuna 10.000 fogli bianchi e loro fanno così, continuano a infilare. Presto o tardi, per composizione, combinazione delle lettere, una di loro scrive l'amletto, un'altra scrive la gina commedia. Io ho più o meno fatto questo lavoro e non ho scritto niente di valido, se no, una cosa che io ricordo sempre, che mi ha aperto, un capitolo della mia vita particolare, mi ha dato l'amicizia con Marcello Marchesi, dice qualcosa i signori di mezza età. Leo Chiosso, mio amico fraterno e inventore di Buscaglione, mandò a Marchesi un epigramma che avevo scritto per tutto sport dal villaggio olimpico di Tocchio e che resta per me le sole quattro righe da salvare di tutta questa produzione in questa radura. Si riferiva al canottaggio, al mondo del canottaggio, si intitolava invidia e diceva semplicemente al quattro senza non far sapere che il quattro con ha il timoniere. Giampaolo Ormezzano pubblica i Cantaglorie. Cosa significa questo titolo, i Cantaglorie? Allora, i Cantaglorie, non lo sapevo, titolo scelto dall'attuale direttore dello sport di Rai, Gabriele Romagnoli. Sono dei, che è all'origine del libro, c'è un altro l'input lui suo, straordinario. Sono delle cornici di legno antico che contengono, anziché la solita foto dello zio o della nonna, uno piccolo spartito musicale, qualche nota di inni sacri abitualmente. Cantano le glorie dei santi, dei martiri eccetera. E qui invece si cantano le glorie degli sportivi. Mi sembra di aver capito che è una specie di mitologia dello sport italiano degli ultimi 60 anni. Allora, no, una specie di, visto dal mio punto di vista, per me il mito non esiste, i miti sono plurale di mite. Ecco, lo sport italiano ha avuto spunti mitologici perché ha avuto dei grandi campioni, anche donne specialmente, tardi ma importanti, ma ha avuto soprattutto dei personaggi giusti per alimentare le fantasie. Nell'Europa delle macerie, Coppi e Bartali hanno voluto dire tanto, per tanta Europa, Coppi specialmente, più internazionale di Bartali. Il grande Torino ha voluto dire tanto, noi non abbiamo perso la visione estera del grande Torino, in realtà in Sud America ha voluto dire tanto l'Italia, ecco, delle macerie anche quella. Insomma, praticamente lo sport italiano è stato molto prodigo, come posso dire, di situazioni immaginifiche. E anche ha smentito chi razzialmente, e sto parlando del mio grande maestro e amico Gianni Brera, chi razzialmente si precludeva dei traguardi. In realtà lo sport italiano è stata la prova che uno può eccellere anche se non è stato baciato dagli dèi, ecco, gli scorfani del ciclismo. La squadra del grande Torino non erano grandi atleti di calcio, le donne della maratona, le donne dello sci di fondo, ecco, tutto premesso che non si può quindi, come posso dire, argomentare, come fanno invece in altre nazioni, una specie di peculiarità razziale legata allo sport, la Finlandia, ad esempio le nazioni nordiche, no? Il sport italiano è variegato come variegata l'Italia, siamo di tutti i tipi, Bassotti e tutto, però è veramente uno sport che ha raggiunto più il mito perché è stato, come posso dire, ha parlato meglio ai poveri, di tanto altro sport. Ecco, però io intendevo miti nel senso della parte dei giornalisti, cioè coloro che hanno avuto la capacità di raccontare attraverso una letteratura giornalistica straordinaria, la storia dello sport, lei compresa ovviamente. Devo dire che c'è stata, parliamo almeno a partire da quando io ci sono entrato dentro a piedi giunti in questo mondo, cioè primi anni 50, c'è stata veramente una bella fioritura, come posso dire, una bella armonia, una sintesi tra atleti bravi, situazione socio-economica favorevole, favorevole nel senso delle macerie, però vuol dire favorevole e scrittura valida di gente che c'è stata una bella combinazione, non so in che punto sia un merito, sia un caso. Per esempio, faccio un esempio pratico, ecco, io ho coniato una frase che nel ciclismo ha avuto successo, Merckx più forte, Coppi più grande, ecco, questa frase ha un molto valore emblematico, perché voglio dire, se noi decidiamo che Merckx meriterebbe di essere più grande, dobbiamo dargli un fondale di macerie come Coppi, dove lui possa stagliarsi come si stagliava Coppi e come lo hanno fatto stagliare i cantori dell'epoca, ma vado a fare una guerra per quello, non è il caso, credo, valga la pena. Io non lo so perché, io so che l'ho vissuta, minimissima parte creata, questa epopea autentica del giornalismo sportivo italiano. A un certo punto in Italia c'erano quattro giornali sportivi quotidiani e tutto il resto del mondo ce n'era due, è uno. Vuol dire che c'era un pubblico affezionatissimo. Sì, è stato presentato bene, ma posso dire che un commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, che ha vinto due mondiali consecutivi, unico commissario tecnico a essere riuscito in quell'impresa, Vittorio Pozzo, più in mezzo un'Olimpiade, quella di Berlino 36, unica Olimpiade vinta dal nostro calcio finora, lui riusciva a fare il giornalista, nonostante la carica di commissario tecnico, perché c'era anche una purezza, non si pensava che lui potesse approfittarne per dare a se stesso le notizie in anteprima. Poi lui, biellese cresciuto a Torino, Sabaudo al massimo, vecchio alpino, magari dava a se stesso i buchi, non dava le notizie per non essere attacciato di favorittismo nei riguardi di Vittorio Pozzo. Ci sono dei personaggi colossali del nostro giornalismo. E qui li ritroviamo, li troviamo anche in questo libro, i Cantaglorie, che immagino verrà presentata anche al prossimo salone del libro. Sì, sì, senz'altro, non dico facciare il salone per me, ma ci sarò, ma voglio dire una cosa, estendere questo discorso, per esempio quello che ha fatto Zavoli nel ciclismo, con i processi alla tappa, l'ha imitato tutto il mondo, le radiocronache di calcio di carosio e poi il ritmo di ciotti ameri, sono state delle elezioni per quelli che pritengono di darci le elezioni noi permanenti, anche di giornalismo, cioè i francesi, voglio dire. Io penso anche alla trattazione del fenomeno olimpico, i nostri giornalisti sono stati spesso i più bravi, i più attenti, i primi alle Olimpiadi, sulla notizia oppure sulla descrizione della notizia, tant'è vero che intorno agli atleti italiani, in tutte le 24 Olimpiadi che ho seguito giornalisticamente, triste primato del mondo, greve primato del mondo, regolarmente avevamo attorno tanti giornalisti stranieri. Cercavano di rubare, di carpire e di capire. Anche il nostro entusiasmo, tutto, i giri d'Italia o di Francia, soprattutto di Francia che è molto più internazionale, noi giornalisti italiani siamo stati leader, ci guardavano, stiamo cercando di imitarci, ecco, non lo so perché, però so che, non so perché so che. Però è stato così, va bene, noi ringraziamo Gian Paolo Ormezzano, i cantaglorie, buona fortuna, in bocca al lupo. Io vi posso anche dire il nome della creditrice. Provi, ci provi. Sixty-sixth and second. Non ci siamo riusciti noi, ci è riuscito Gian Paolo Ormezzano. Vuol dire il 66esimo e secondo, delitti new yorkesi. Grazie. Grazie mille. Grazie a tutti.